Il Rimini, reduce dal pari di Cisena con il Romagna Centro, ospita il Romeo Neri L'Aquila Montevarchi. Le due squadre sono separate in classifica da 5 punti, 34 per i Biancorossi, secondi a meno 1 dalla capolista Fiorenzuola e 29 per i Rosso Blu. Ospite sugli spalti il settore giovanile della Polisportiva Stella, società affiliata al Rimini Football Club. Presenti nel settore ospiti circa 200 tifosi toscani. Muccioli deve rinunciare allo squalificato Arlotti e agli acciaccati Ambrosini, Cole e Valeriani. Petti non al meglio ma parte comunque dal primo minuto. È partita da ex per Francesco Scotti. Sono finalmente arrivate le tanto attese maglia scacchi, ma il loro debutto è rinviato perché il Montevarchi è in rosso-blu con una forte componente di rosso ed il regolamento prevede che in caso di possibile confusione sia la società ospitante a cambiare casacca. La partita. Al secondo crossa da sinistra di Cicarevic, spondere di Buonaventura per Simoncelli che sempre di testa impegna Pellegrini. Al quinto è la sinistra da un passo dentro l'area di Buonaventura e lontano dal bersaglio. All'ottavo Buonaventura trova lo spazio per tentare un tiro cross insidioso. Nulla di fatto però. Il primo tentativo ospite è un tiraccio di Videtta al quarto d'ora dopo una punizione di Giacomo Gorini, respinta di testa da Buonaventura, sfera lontana dai pali di Scotti. Al ventiquattresimo Simoncelli per Buonaventura che calcia, la sfera a Sibila lato di un niente. Al venticinquesimo Montanari si fa soffiare il pallone da Fofi che può entrare in area e superare Scotti con un comodo diagonale. Montevarchi in vantaggio. Al ventottesimo Simoncelli su punizione pesca in area petti, l'incornata del difensore in maglia bianca sorvola la traversa. Al trentunesimo il calcio piazzato di Gorini dal limite è alto. Al minuto trentatré il traversone basso di Guiebre è messo in corner da Pellegrini, primo angolo della partita. Al trentacinquesimo il tiro di Cicarevic è parato senza affanni dall'estremo rosso-blu. All'intervallo ospiti in vantaggio di un gol, 0-1. Nella pausa i baby calciatori della Polisportiva Stella sfilano sul manto del Neri. Al secondo della ripresa, dopo un tentativo di rovesciata non riuscito di Buonaventura, Cicarevic va al tiro. Il suo offendente è Sibila di poco oltre alla traversa. All'ottavo azione in verticale di Biancorossi, variole in avanti, tacco di Buonaventura per Simoncelli che da buona posizione impatta male, pallone a lato. Al quattordicesimo Gorini impegna Scotti direttamente dalla bandierina. Al ventiquattresimo Pellegrini leva dall'incrocio la punizione precisa di Cicarevic. Sugli sviluppi del corner battuto da Simoncelli, l'incornata di Petti è fuori. Alla mezz'ora corner di Righini, Pellegrini è lontana di Pugno. Di Stefano, appena entrato in campo, colpisce troppo d'esterno. Il suo destro finisce lontano dai pali. Al trentaduesimo ci riprova Di Stefano, questa volta il suo tiro è deviato in corner. Al trentatresimo il Rimini pareggia. Angolo di Righini, Brighi sfiora di testa e Biagi tocca nella propria porta. 1-1. Al quarantaduesimo punizione dal limite dell'area per il Rimini. Batte Righini, la sfera scheggia la traversa. Finisce 1-1. Il Rimini sale a quota 35 e resta meno uno dalla capolista Fiorenzuola, fermata sul pari dal Trestina. Ma Villa Biagi e Molese si rifanno sotto. Grazie. Grazie. Grazie.